Nei giorni scorsi ti ho portato al ristorante prenotare, mangiare, oggi invece tutti al supermercato! Vediamo un po' di terminologia che potrebbe tornarti utile quando vai a fare la spesa. E quindi? Allora, supermercato oramai è anche entrato nell'italiano e quindi supermarket. Fin qui tutto ok. Di solito poi è entrato nell'italiano anche l'uso di shopping. Shopping. Vado a fare shopping. Per dire però generico, quando io dico vado a fare shopping non mi viene in mente che vado al supermercato giusto, vado a negozi, vado all'outlet, vado per vestiti, ma non mi viene in mente che vado al supermercato. E in effetti, quando fai la lista della spesa, quella alimentare non la chiami shopping list. Cioè sì, ma se vuoi essere più specifico e intendere la lista della spesa alimentare, allora diventa la grocery list. Perché grocery in UK è il negozio di alimentari. E quindi il carrello della spesa è il grocery card o shopping cart o shopping trolley. Ok, i negozi in Inghilterra sono gli shops e fino qua. Ma adesso è entrato perché fa più cubo che gli Stati Uniti, yeah. Allora è entrato nell'uso anche dire stores. Lo sentirai dovunque. In tutti gli store. Super store. Negli Stati Uniti lo store è genericamente più grande di uno shop, se vogliamo trovare una differenza. Ok? Lo store è proprio il supermercato grande, il negozio grande, tipo quelli che trovi nei centri commerciali. Altrimenti è uno shop, il negozio più piccoletto. Se invece ti vuoi riferire a quella che è la nostra gastronomia, vado a prendere due tagliolini in gastronomia, ho preso un po' di arrosto, i piatti pronti, i salumi, i formaggi, quelli buoni, quelli belli. Dove trovi tutta la miglior gastronomia? Ecco, questa roba qui in inglese si chiama telecathessen, alla tedesca. Abbreviato spesso in deli. E quindi se vedi un negozio con questa insegna, sai, da adesso lo sai, che è un negozio di gastronomia, di quelle un po'. Ti capi? Conoscevi tutti questi termini? Let me know! E ti ricordo che c'è sempre la mia newsletter. Questo mese, siamo ancora in tempo? Si parla di cibo, di spesa, di alimentazione, di mangiare! E le mie attività preferite. See you there!